ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerò i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco marixol hospital line srl ultimo aggiornamento 12 maggio 2021 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze componenti e ingredienti importante a cosa serve marixol è un parafarmaco appartenente alla categoria degli soluzioni per irrigazione nasale è commercializzato in italia dall'azienda hospital line srl informazioni commerciali titolare hospital line srl concessionario hospital line srl categoria di appartenenza soluzioni per irrigazione nasale confezioni marixol spray nasale per la pulizia idratazione dei 7 20 ml indicazioni marixol soluzione spray è una soluzione stabile leggermente ipertonica contenente manditolo e glicerolo utile nella pulizia meccanica e mediante meccanismo osmotico delle narici il suo utilizzo facilita la rimozione delle ostruzioni da sporco o da agenti esterni delle narici esterne grazie all'azione meccanica diretta della soluzione con il nebulizzatore ed anche al successivo richiamo momentaneo di acqua tessutale locale in grado di imbibire l'ostruzione o lo sporco e di facilitarne la rimozione permette infatti di eliminare lo sporco e le croste secondarie esterne dovute a infezioni pregresse cattiva igiene nasale o pulizie particolari profonde del naso in maniera delicata ed efficace può essere utilizzato dopo qualche tempo da un intervento chirurgico questa azione osmotica viene svolta prevalentemente dal manitolo la formulazione permette di eliminare le aderenze e gli attriti presenti tra le zone di sporco ed il condotto facilitando la rimozione o il disfacimento delle croste in maniera semplice non invasiva e non aggressiva aiuta altresì a rimuovere eventuali corpi estranei potenzialmente irritanti coadiuva il ripristino della normale luce effettiva utile delle narici l'azione del dispositivo viene raggiunta mediante azione meccanica e di adsorbimento in quanto la soluzione riduce l'attrito favorendo lo scorrimento dello sporco delle zone raggiunte dal getto di soluzione e imbibisce le croste dure anche quelle esterne favorendo poi la loro rimozione con una semplice azione meccanica non esiste nessun ausilio di tipo farmacologico per il raggiungimento della funzione del dispositivo e gli ingredienti che lo compongono non svolgono azioni farmacologiche per questa azione il glicerolo è l'ingrediente funzionale marixol soluzione riduce poi l'irritazione delle zone da trattare grazie alla presenza di beta glucano e sodio ialuronato che oltre a svolgere l'azione glidante e di scorrimento agiscono localmente come anti arrossanti il derivato naturale delle sculatina invece migliora in generale il tono e la tonicità delle zone irrigate modalità d'uso applicare 24 erogazioni per narice due volte al giorno o secondo indicazioni del medico descrizione e caratteristiche vengono riportati in tabella i parametri caratterizzanti parametro um valori standard drift aspetto liquido acquoso con odore caratteristico dolciastro colore tqt per cento l max trasparente peso specifico g barra ml 20 c 1,0 25 1,0 50 ph 1 per cento u di ph 20 c 4,0 5,0 ph 10 per cento u di ph 20 c 5,0 5,3 solubilità completamente idrodisperdibile le materie prime utilizzate gli imballi e le fasi di lavorazione intermedie e di ogni singolo lotto di produzione vengono controllate attraverso un sistema di procedure standard pos interne tutti i fornitori di materie prime e imballi sono certificati iso 9000 en 46.000 ogni lotto di produzione viene controllato microbiologicamente e chimicamente presso un laboratorio esterno autorizzato ed accreditato per le analisi eseguite avvertenze stoccaggio e stabilità conservare il prodotto a temperatura ambiente in luogo asciutto la confezione originale sigillata a validità minima di 36 mesi richiudere accuratamente l'erogatore con l'apposito tappo dopo l'uso tossicità marixol soluzione alle concentrazioni d'uso e correttamente utilizzato non è tossico dai dati disponibili l'assorbimento cutaneo è per questa classe di preparazione trascurabile e nessuno degli ingredienti utilizzati raggiunge valori di concentrazione prossimi alla soglia di rischio per le dl 50 disponibili nessun ingrediente è iscritto nella lista cmr o è utilizzato in concentrazione oltre limite di legge consentito per i prodotti le aveon o da applicarsi sulle mucose il prodotto non deve essere ingerito direttamente in tutti i casi il prodotto anche se ingerito non è tossico il prodotto non deve essere utilizzato su cutelesa nessuno degli ingredienti è classificato tra quelli cmr o comunque tossici o nocibi per l'uomo alla riproduzione i conservanti utilizzati sono ammessi per l'uso previsto entro i limiti di legge componenti e ingredienti 100 gr di soluzione contengono mannitolul fu glicerolo fu sodio ialuronato sol 2 per cento beta glucano polisorbato 20 potassio assorbato sodio benzoato metile sculetina sodica acqua depurata roma importante stoccaggio e stabilità conservare il prodotto a temperatura ambiente in luogo asciutto la confezione originale sigillata a validità minima di 36 mesi richiudere accuratamente l'erogatore con l'apposito tappo dopo l'uso tossicità marixol soluzione alle concentrazioni d'uso e correttamente utilizzato non è tossico dai dati disponibili l'assorbimento cutaneo è per questa classe di preparazione trascurabile e nessuno degli ingredienti utilizzati raggiunge valori di concentrazione prossimi alla soglia di rischio per le dl 50 disponibili nessun ingrediente è iscritto nella lista cmr o è utilizzato in concentrazione oltre il limite di legge consentito per i prodotti le aveon o da applicarsi sulle mucose il prodotto non deve essere ingerito direttamente in tutti i casi il prodotto anche se ingerito non è tossico il prodotto non deve essere utilizzato su cutelesa nessuno degli ingredienti è classificato tra quelli cmr o comunque tossici o nocivi per l'uomo la riproduzione i conservanti utilizzati sono ammessi per l'uso previsto entro i limiti di legge fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato